Adesso andiamo a mettere il tuorli e l'uovo dentro il composto che abbiamo fatto, avendo cura di mescolare dall'alto vetto e basso, in questo modo qua. Ecco, e andiamo a mettere bene il penino. Ok, a fuoco alla volta. Ma che fuoco alla volta? Bene, adesso, gireremo tutto il nostro composto, lo andiamo a mettere dentro. E lo mettiamo. Eh, ma perché vuoi fare qualche buona? Ecco qua.